Villa Carmela, casa di riposo, residenza albergo per anziani, a Bracigliano, in via Vescovo Capaccio, 32. Il Cava Basket domenica scorsa ha perso in casa della cestistica Benevento e si è visto raggiungere dalle agguerrite inseguitrici al secondo posto del campionato di Serie C Silver, alla quota dei 30 punti. Domani però ci sarà una possibilità di riprendere la marcia interrotta, contro la formazione di Portici, che è la penultima della classifica, quindi il pronostico favorirebbe proprio i metelliani del coach Aldo Festinese. Cava Basket contro Portici è prevista per domani alla palestra Mauro e Gino Avella, con inizio alle 18.30, ma sull'importanza di questo match l'ufficio stampa del Cava ha ascoltato la giovane guardia Francesco Chirico. È una striscia di risultati positivi, ma noi non possiamo commetterci errori, anche perché conquistare un buon secondo posto ci permetterà di avere più partite in casa durante i play-off e quindi tutto ciò gioverà a nostro favore. Nella decima giornata di ritorno, che è la quart'ultima prima degli spareggi, si giocano anche Forio-Marigliano, Folgo-Renocera-Benevento e Mugnano-New Caserta Basket. La classifica vede Caserta al primo posto a 38 punti, seguita da Forio, Cava e Benevento a 30. Quindi con una sola vittoria la New Caserta Basket festeggerà la promozione in Serie C Gold.